Noi abbiamo assunto questa iniziativa in ragione del valore dell'opera del pensiero e della vita di Lucio Marco Tullio che non si può perdere né si può disperdere. C'è da fare memoria poiché lui ha rappresentato certezza per quanto riguarda la decisione pubblica come sindaco di Penne, per quanto riguarda anche la creazione di ricchezza poiché ha animato il primo periodo e poi anche lo sviluppo della Brioni a Penne e poi è stato anche un organizzatore della vita degli industriali sempre all'insegna del valore della responsabilità sociale dell'impresa. Noi abbiamo bisogno di favorire questo ricordo per le giovani generazioni poiché gli esempi aiutano le collettività come grandi infrastrutture al pari del diritto.